Con il giornalista Pierluigi Battista, cosa cambierà nel mondo del giornalismo, cosa sta cambiando e quanto pesano oggi ancora le censure in alcuni paesi? Beh, intanto sta cambiando tutto perché è proprio un modo di fare il giornalismo che si è trasformato attraverso i social, l'immediatezza delle informazioni, la moltiplicazione delle fonti, spesso l'incontrollabilità di quelle delle fonti stesse, a volte c'è quindi una moltiplicazione della diffusione anche di fake news, però nello stesso tempo, e questa è la parte negativa, la parte positiva è che in qualche modo questo sottrae un po' di ruolo al giornalismo tradizionale, quello con il bollino, diciamo così, però la parte buona è che nella moltiplicazione delle fonti c'è anche molta possibilità di una riduzione dei monopoli, per cui se io non posso più censurare una notizia, io il giornale non posso censurare perché tanto è talmente vasta e vivace la platea che io devo per forza dare quella notizia lì, quindi diciamo c'è un aspetto negativo, un aspetto positivo. La censura è molto forte ancora, naturalmente dobbiamo distinguere, fare una linea di demarcazione tra i paesi delle dittature in cui non è possibile pubblicare un libro, non è possibile avere un giornale indipendente e così via, però anche nei paesi occidentali, più che forme di censura, di autocensura. Quali possono considerarsi nuovi argomenti tabù e quali sono oggi politicamente non corretti? Ma diciamo che c'è una certa tendenza a una censura lessicale, un po' esagerata da un certo punto di vista, in Italia ancora no, ma negli Stati Uniti per esempio hanno addirittura alcune università americane censurato Shakespeare, Eschi, lo Sofocle, la tragedia greca, perché appunto considerati, perché vengono descritti degli stupri e questa cosa viene identificata come una forma di, come dire, di quasi di incentivo alla violenza e questi sono gli elementi molto esagerati. Addirittura si è cambiato, questo in Italia è avvenuto, il finale della Carmen di Bizet, perché anche quella, perché moriva la protagonista, invece è stato cambiato il finale perché la protagonista non doveva morire. Ora, queste sono forme di censura stupida, perché non c'è nessuno al mondo che ucciderà una donna perché sulla Carmen di Bizet c'è la donna che muore. Questa è una forma veramente un po' esagerata. Oggi la stampa può considerarsi libera? Il segno della libertà della stampa e dell'informazione è nella pluralità dell'informazione, cioè non è nella bontà dei singoli editori che possono essere indulgenti nei confronti dei loro giornalisti, ma nel fatto che se io sono un giornalista di una certa testata e in quella testata non posso scrivere delle cose che invece vorrei scrivere, io posso andare in un'altra testata. Questo è il segreto della libertà di stampa, quindi non è un problema di bontà, ma è un problema di moltiplicazione di opportunità. E questo, diciamo così, appunto, essendoci maggiore moltiplicazione, probabilmente c'è anche più possibilità della libertà. Poi ovviamente esiste una crisi, che però non c'entra niente con la censura, ma esiste una crisi strutturale dei giornali, i giornali chiudono, quindi il mercato si riduce e quindi questo discorso tende a vanificarsi, ma non per colpe specifiche dei social. Iniziative giornalistiche come queste, come questa di questo microfono, per esempio danno l'opportunità a tante persone di fare informazione, magari bypassando le grandi concentrazioni editoriali e queste sono delle occasioni e delle opportunità importanti, cioè delle pietre preziose all'interno dei singoli territori.